Un po' di sofferenze nel finale dopo l'espulsione di Brosco, per il resto era una partita che difensivamente, e questa è una buona notizia, stavate controllando bene. Sì, il campo era molto sfavorevole per i nostri giocatori, per il nostro tipo di gioco. Sì, come ha detto, è un buon segno che siamo rimasti dietro, non abbiamo perso la testa anche dopo l'espulsione. Sì, dobbiamo continuare così in fase difensiva, secondo me è un buon segno, sì. Tu che eri lì vicino, era proprio da rosso l'intervento di Riccardo Brosco? Non lo so, non voglio discutere decisioni di arbitro, non voglio discutere. Senza Riccardo, però chiaramente tu e Gianmarco Ingrosso sarete titolari con il potenza, a questo punto però serve solo la vittoria. Sì, poi, come ha detto, è un buon segno. Noi dobbiamo continuare a lavorare così, poi il campo, il campo nostro, la possiamo fare meglio anche in fase di possesso. Dobbiamo prepararci bene per la potenza e far tutto per vincerla.